Difficile parlare dopo una partita, ora così a caldo. Semplicemente la costanza a tutti gli 80 minuti. Cioè, proprio visto che al sessantesimo abbiamo un po' carato l'attitudine, la costanza. Però devo dire che come impatti fisici, come battaglia fisica, ci siamo fatti valere. La differenza dal mio esordio che ho fatto ormai quasi due anni fa è proprio la tipologia dei giocatori. Siamo tanti giocatori più giovani, quindi abbiamo tanta voglia di farsi vedere. C'è energia, si vede, prendiamo entusiasmo ogni azione che vinciamo. La differenza è che abbiamo costruito un DNA che ne abbiamo parlato con Franco. Ci fa lavorare veramente duro e questo si rispecchia nelle partite. In Inghilterra è sempre data meglio rispetto alla partita precedente. Ora contro la Scozia siamo lì, lì, da portare a caccia la partita. Mi piace il cuore, però c'eravamo veramente vicini. Mi piange il cuore dirlo, però c'eravamo veramente vicini. Grazie. 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 Grazie.